Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Non ho il coraggio di usare il telefono. Non adesso. Non è possibile. Ecco il flash. Ora posso fotografare Marta, anche al buio. Roba del babbo. Mappe di guerra. Ho sentito dire che tutto si giocherà su questa nuova linea difensiva. Ora posso fotografare la tua situazione. Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 il suo volo. a tutti. a tutti. a tutti. mi piaceva. a tutti. 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 a tutti.